bella a tutti i ragazzi benvenuti sul canale di mds io sono il vostro alastil e stasera parleremo del nuovo come ogni settimana la tradizione del nuovo negozio settimanale vediamo insieme cosa è uscito è uscito demo 8 bit che è un ottimo costruttore un demolitore forte con l'esca forte con gli esplosivi carica più velocemente gli esplosivi quindi permettendovi di sparare effettivamente più veloce alla base che è piccola ma buona ha la carica che serve per bloccare gli smasher come tutti sappiamo è importantissimo con il costruttore bloccare lo smasher in carica facendogli la nostra carica poi diciamo che è uscita una certa arma la ghost pistol cos'è la ghost pistol la ghost pistol è una revolver a sei colpi quindi una pistola con una cadenza di tiro leggermente più veloce dell'aquila calva tanto per farvi capire la tipologia di arma di cui stiamo parlando una pistola sì ma non con questa gran cadenza usa gli stessi proiettili dell'aquila calva fa un po meno danno anche se spara un po più veloce in modalità mira spari comunque bene e anche fuori mira spari abbastanza bene diciamo che non cambia molto il livello di mira tra cosa questo ok questi sono altri appunti scusate questo non è questo non è questo eccoli qua i miei dati allora scusate sto leggendo un foglio ma non lo dite a nessuno allora spara bene sia in modalità colpo singolo sia in modalità mira aperta quindi se voi tenete premuto il destro o comunque il r2 per entrare in modalità di mira ha una buona precisione il colpo è preciso trapassa le strutture trapassa gli ambienti scenografici trapassa i mob trapassa gli scudi trapassa le porte del frigo di quei cazzo di zombie che hanno la finestrella e la porta del frigo davanti che io vi giuro ragazzi voglio avere un frigo così grande per un ciccione allora io sono grosso perché so di essere grosso fisicamente parlando sono grosso quanto più o meno una persona con un po di sovrappeso quale io sono e se mi metto davanti al frigo il frigo grosso la porta mi prende bene ma non tutto quella proprio tutto prende quelli lì sono dei chiattoni sono dei ciccioni enormi eppure portano sta cavolo di porta immensa io voglio un frigo così ragazzi e che volta vi devo dire voglio quel frigo e questa pistola trapassa quella quella difesa quindi è stata fatta appositamente per rendere calamiti perché di questo stiamo parlando sia questa la pistola spettrale sia ultime parole che la colt che è uscita settimana scorta sono state fatte appositamente per calamiti ragazzi credetemi calamiti con quelle armi in mano con dietro un buon setup un buon supporto e un buon tattico incomincia a fare male incomincia siamo ancora distanti da dal tier 1 dei dps siamo ancora molto distanti ma posso tranquillamente posizionarla in un tier 3 quindi non è una prima scelta non è una seconda scelta ma è un'ottima terza scelta diciamo che è un due e mezzo dai come tier mentre invece demo 8 bit è un tier 1 e mezzo è due parte altissima uno parte bassa perché comunque quel tipo il distruttore come costruttore è buono ora questa pistola naturalmente voi la prenderete senza perk avrete se non sbaglio tre bianchi e due blu di cui uno solo il danno va cambiato da danno a danno critico a livello critico al costo dei mille e rotti rivantaggi o chiavi inglesi che vogliate chiamarle io mi sono fatto due calcoli qua ci sono i dati della pistola qua ci sono i miei calcoli per cui per portare un perk da bianco ad arancione vi servono 345 reper le chiavi inglesi 100 tra vantaggi i ragnetti verdi 150 blu 225 epici e 345 leggendari oro per ogni singolo per questa parte con due blu io non ho voluto fare il calcolo preciso di questa pistola però ho voluto fare invece il calcolo preciso di quanto ti serve per fare cinque perk tutti bianchi poi naturalmente voi andrete a risparmiare qualcosa più i perk che avete sull'arma che volete fare li avete già alti quindi per fare cinque perk oro vi servono 1725 stravantaggi e rivantaggi le chiavi inglesi non so come farvela le chiavi inglesi 500 per cap verdi o stravantaggi verdi stravantaggi non comuni 750 stravantaggi blu per cap blu o rari 1125 epici che sono quelli viola e 1725 dorati 1725 dorati naturalmente in base al vostro livello non vi conviene fare già l'arma full dorati conviene magari portarle prima tutte a full blu e poi sceglierne tre che saranno il vostro il vostro credente d'attacco e portare su quelle e quelle tre non possono essere scava fosse notturne bulldozer ragazzi non potete fare tre assalti rischiando poi di farli solo esclusivamente tre assalti che potete usare con l'assalto urbano school trooper school ranger mazza assalto urbano assalto urbano ed hunter ce ne sono un po di reskin di ed hunter e come soldato è anche molto forte però se io ho solo a r mi conviene usare solo quel quel soldato perché se io invece diversifico un gocciolino non di tanto di un gocciolino le armi che ho le posso usare bene su tutti non avendo la fretta di dover avere un setup di armi buono per ogni eroi neanche io ce l'ho ancora ragazzi sono livello 110 e non ho ancora tutti tutte le armi percate giuste percate oro ne ho tante niente da dire ne ho tante o tanti setup già pronti ma non tutti questo qua è un gioco di pazienza quindi abbiamo visto quanto ve lo ripeto un'altra volta quanto vi serve per percare a oro un'arma che sono 175 1725 che 175 già 1725 rivantaggi che sono le chiave inglesi 500 stravantaggi non comuni quelli verdi 750 stravantaggi blu quelli rari 1125 stravantaggi epici quelli viola e 1725 stravantaggi oro o leggendari gli arancioni questo è volete sapere cosa ne penso della pistola mi piace mi piace è carina come pistola puoi sparare attraverso i muri l'unica cosa che non al mirino termico il rispetto a certe armi che sparano attraverso i muri scusate sono stato molto malato in questo periodo non è esattamente la stessa cosa però ci sto studiando sopra al suo utilizzo è una buona alternativa su calamity per la desert eagle se non ce l'avete o aquila calva detto questo signori vi rimando al prossimo video sperando di riuscire a registrare qualcosa con la nuova pistola dal vostro alastel un bel saluto ciao a tutti se vi piace lasciate like se volete iscrivetevi se non volete farlo non lo fate nessun problema se volete lasciare dislike almeno spiegatemi il perché nei commenti cercherò di migliorare e per il resto ci vediamo in game mi raccomando se avete bisogno di un gruppo cercate il discord sotto i video dove gioco non dove parlo come questo dove gioco bella raga